Su questo non c'è ancora un accordo perché non c'è ancora una proposta concreta. Il tema è questo. Il dibattito è stato talmente ampio che si sono sviscerate veramente tutte le ipotesi. Adesso si è passato dalle ipotesi, almeno per quanto ci riguarda, non solo alla concretezza, alla immediata esecuzione. Cioè a dicembre si vedranno gli operai lavorare. Poi aspettiamo. Se poi lei mi chiede la mia opinione, l'ho detto più volte, nel momento in cui arriverà la proposta è chiaro che noi la valuteremo con la serietà che ci contraddistingue, tenuto conto che dall'altra parte c'è la società con cui noi vogliamo avere un ottimo rapporto. Quindi attendiamo un'eventuale proposta sul numero di capienza e faremo le nostre valutazioni insieme alla città.